Visto a cosa siamo arrivati, tu sei il solo a cui posso confessare il mio segreto. Ho dipinto ognuno di quei quadri, ognuno di quei grandi occhi. Io. E tu sei l'unico che lo saprà mai. Come si chiama? Margaret. Non le conviene provarci con una di quelle? No, a me piace lei, Margaret. Wow, sta andando tutto così in fretta. Sono divorziata e ho una figlia, Walter, è una benedizione. Ti piacerà da morire questa roba? Che occhi grandi, perché? Gli occhi sono lo specchio dell'anima. Per questo sono così grandi, li ho sempre dipinti così. Perché stai mentendo? L'arte firmata da donne non vende. E poi qui c'è scritto Keen. Io sono Keen, tu sei Keen. Sorrida. È tutto venduto. La gente adora i tuoi occhioni. Vende i quadri, poi vende le foto dei quadri, poi vende le cartoline delle foto dei quadri. Buon Dio, è diventata una mania. Non ti fai pazzire abitare qui? Veramente ancora non riesco a crederci. Mi ricordo quando mamma l'ha dipinto. Ti confondi, l'ho dipinta io. Cos'è che la tormenta? Ho mentito a mia figlia e non sono una che mente. E suo marito invece mente? Questi quadri sono parte della mia vita. Forse dovrei firmarli col mio nome. Non starei facendo un po' di confusione? Keen sono io, Margaret. Vuoi restituire tutti i soldi? Se lo dici a qualcuno, questo impero crollerà. Se questo è il prezzo, è come un miraggio. Da lontano vedi una pittrice. Poi ti avvicini e non vedi più niente. È impazzita. Tu non lo sai qual è la verità. E allora, chi è l'artista? Ciao a tutti, benvenuti. La curiosità di oggi riguarda Tom Hanks, che come sapete interpreta Walt Disney in Saving Mr. Banks del 2013 e gira a voce che i due siano lontani cugini. Però, in un'intervista, Hanks ha dichiarato di non ritenere di assomigliare ma nemmeno lontanamente a Walt Disney. Cos'è? Vuole prendere le distanze dal cugino? Tom, Tom. Al prossimo video, ciao a tutti.